Se stai avendo problemi riguardo al cavo LAN, quindi in questo caso vorresti poi passare al cavo Ethernet, quindi usare il cavo al posto della connessione Wi-Fi, in questo caso se stai avendo problemi proprio che quando l'hai collegato il cavo Ethernet non funziona sul tuo Windows, sul tuo sistema operativo, in questo caso è possibile risolvere il problema aggiornando e installando il driver sulla sua, quindi sulla scheda madre del computer che hai, quindi se non sai che scheda madre hai sul PC basta andare direttamente sul System Information, ed eccolo qua, prodotto scheda di base, questa è la mia scheda madre B450 Gaming Plus Max. La prima volta che scaricai così, la prima volta che usai il cavo Ethernet non andava perché mancava qualcosa sul computer, quindi sono andato direttamente sulla pagina della mia scheda madre, in questo caso tu devi cercare la tua scheda madre, basta che scrivi scheda madre tua e vicino metti driver download, driver e download, tipo questo metti. Quindi vado direttamente su driver download, vado direttamente su driver download, scendo fino a giù, mi ho trovato il driver ed eccolo qua, LAN driver ed ecco qua la nostra soluzione, LAN driver. Realtek PCA Ethernet drivers, se adesso vado tasto destro su start, gestione dispositivi ed eccolo qua, Realtek PCA Ethernet, quindi vado a scaricare così questo driver. Lo estraggo così con Winrar, se non hai Winrar ti consiglio di scaricarti l'applicazione Winrar, che ha questa immagine così, entriamo nella cartella, questa è la cartella ed eccolo qua, Setup. Ci clicchiamo sopra, e lo installiamo. Ovviamente il driver per il cavo LAN devi sempre fare avanti, installi e hai fatto, una volta installato devi solamente riavviare il sistema. Ovviamente, in descrizione ti ho lasciato anche un comando da inserire direttamente sul CMD, in caso hai problemi anche con la connessione, tipo per esempio, andiamo direttamente sul CMD, prompt dei comandi, esegui come amministratore. Inserisci così il primo comando, facciamo copia. Andrà così a disconnettere la rete, secondo comando, andremo poi a riconnettere la rete, rete locale, LAN, eccolo qua. E svuotiamo così le cache, riserva il DNS della rete. Molto fatto, premi exit. Scrivi proprio là sopra, exit. Ad un attimo ad abilitare così, il driver, quindi il mio dispositivo, qua sopra, abilità dispositivo. Impostazioni rete e internet. Impostazioni rete avanzate, ed eccolo qua. Disabilito ora la Wi-Fi, non mi serve più. Identificazione in corso del cavo Ethernet, ed eccolo qua. Adesso possiamo usare L'Ethernet sul nostro computer, al posto della Wi-Fi. Se hai problemi, commenta sotto il video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!